Ci siamo incontrati oggi per la prima volta come consulta, quindi ci siamo un po' conosciute, abbiamo dato delle priorità legate sia alla cultura e quindi alla riqualificazione ad esempio di piccoli borghi che ci sono presenti nei nostri comuni, lo sport perché anche lo sport è molto importante per tutte le attività connesse anche al turismo stesso e poi anche per quanto riguarda l'istruzione, istruzione che eravamo già partiti a dicembre con un protocollo di intesa con la regione che avevamo visto e oggi abbiamo un attimo rivisto per portare avanti quello che sono le nostre scuole e la riqualificazione delle nostre scuole.